ciao amici dal vostro Barney oggi vi faccio vedere una cosa mica tanto bella guardate un po qua adesso sono venuto a fare un giro qua dietro casa appena sopra al lago c'è questo coschetto qua sono entrato dentro in questo schiaccio qua che ci venevo sempre con il mio padron a fare girare fichi giro e guardate un po cosa ho trovato guarda guarda che ho messo in quel barajot che viene a so che gira che e poi dopo viene qua mangia poi lascia giù tutte le schifezze ma adesso è meglio stortanti e si aciap a donna bucà perché non si fa così cioè mangiate venite qua state qua al fresco va benissimo fichi ma questo non devo portare a saccare la roba maleducati ma adesso io vi dilo guarda adesso voi dite tutti i buscate a guarda e si aciap a gai e a buc è figo ciao amici dal vostro Barney incassato grazie a tutti grazie a tutti